Ciao a tutti, in questo secondo video di Path of Glory andremo a vedere l'esempio esteso di gioco che è riportato del playbook del regolamento stesso. Nel playbook sono giocati, sono descritti due turni di gioco di una partita che è stata eseguita via email, quindi in play by mail. Qui utilizzeremo il modulo Vassal per vedere quello che è stato eseguito durante queste mosse di questi giocatori. Lo scenario quindi per giocare è pronto, le unità sono state disposte sulla plancia di gioco, qui sul modulo Vassal sono già disposte, quando andiamo a caricare uno scenario, le unità per i paesi che non si trovano ancora in guerra, quali per esempio l'Italia, la Romania, la Bulgaria, la Grecia e la Turchia, viene posto questo tesserino Neural Country ad indicare che questo paese attualmente risulta essere neutrale, quindi non sono permessi dei movimenti attraverso questi spazi. Pertanto, in una partita su Vassal, quando poi entreranno in guerra, in base alla meccanica di gioco, questi paesi, andremo semplicemente ad eliminare questi box e quindi avremo la possibilità di incrementare la plancia e di utilizzare le unità stesse di queste nazionalità. Allora, andiamo a vedere l'esempio di gioco. Il primo turno è l'agosto del 1914, il secondo turno sarà il settembre del 1914. Ci sono delle regole speciali per quanto riguarda i primi turni di gioco, in particolare, indipendentemente dallo scenario che andiamo a scegliere di giocare, che determinerà poi la lunghezza della partita, ricordo che c'è uno scenario introduttivo per prendere dimestichezza con le regole, che sono tre turni di gioco, uno scenario intermedio da dieci turni, poi lo scenario di campagna a venti turni di gioco. In questi scenari, nell'agosto del 1914, quindi il primo turno di gioco, i giocatori non possono giocare le carte di rinforzi per i rinforzi, pertanto dovranno essere utilizzati per gli ops, piuttosto che per il replacement o lo strategic redeploy. Inoltre, le unità delle potenze centrali non possono muovere, diciamo, non possono terminare il loro movimento in questi spazi, Calais, Amiens e Osden, fin tanto che non è stata giocata una carta particolare che si chiama Race to the Sea come evento, oppure se lo stato di guerra delle potenze centrali risulta essere quattro o più, quindi possono attraversare queste location, queste città, ma non possono terminare qui il movimento, a meno che non termini il movimento a valle di un'avanzata dopo un combattimento. Un'altra regola da tenere presente all'inizio del gioco è che le unità tedesche sul fronte orientale non possono attaccare degli spazi che contengono forti russi, fin tanto che un evento, che è l'Oberost, risulta essere giocato, anche qui lo status di guerra risulta essere pari a quattro o più, quindi significa che all'inizio, al primo turno di gioco, queste unità tedesche, l'ottava armata e questo corpo, non possono attaccare la seconda armata all'OMSA così come la prima armata a Kovno o questo corpo che è a distanza a Grodno, proprio perché l'evento non è ancora stato giocato. Le unità tedesche però possono comunque sia mettere sotto assedio dei forti che risultano essere non occupati. Gli austro-ungarici, dal canto loro, non hanno questa limitazione. Solamente nel primo turno, invece, i russi, nell'agosto del 1914, non possono attaccare o mettere sotto assedio spazi con forti tedeschi, quindi per esempio qui Konigsberg, piuttosto che Danzica, non possono essere messi nel primo turno di gioco sotto assedio. Sempre per quanto riguarda, o attaccati, sempre per quanto riguarda il discorso degli assedi, nei primi due turni di gioco, quindi nell'agosto e nel settembre, siccome si immagina che riguardino solamente un mese di gioco e non un trimestre, perché poi nei turni successivi in realtà parliamo proprio di stagioni, risulta essere più difficile mettere sotto assedio un forte, pertanto si avranno dei modificatori, dei malus di meno due. Ed infine, ultima limitazione nel 1914, ripeto in ogni scenario, i giocatori alla fine del primo turno non vanno a verificare il loro status di guerra, pertanto se il giocatore delle potenze centrali, ad esempio, riesce ad arrivare a un valore di war status pari a 4 già alla fine del primo turno, non entra automaticamente in limited war a partire dal secondo turno, bisogna aspettare quantomeno il terzo turno. Quindi queste sono le limitazioni che si hanno nel 1914, insomma, è bene saperle, sia perché, diciamo, sono delle regole del gioco, sia perché vanno a condizionare fortemente il gioco dei primi due turni del nostro scenario. Allora, cominciamo. Innanzitutto, la prima cosa che viene fatta all'inizio di ogni turno è la fase delle offensive obbligatorie. Pertanto, nell'esempio di gioco, il giocatore delle potenze centrali tira un 4 con il dado, 4 significa che l'indicatore deve essere posizionato sulla Germania. Questo significa che il giocatore tedesco è il giocatore delle potenze centrali, è obbligato ad eseguire un attacco con truppe tedesche sul fronte occidentale, in particolare può scegliere se fare questi attacchi tra Francia, Germania o Belgio, oppure ricordiamo che qualora alla fine del turno non sia soddisfatta l'offensiva obbligatoria, il giocatore perde un punto, vittoria. Per quanto riguarda invece il giocatore alleato, il giocatore alleato ottiene un 2, pertanto lui sarà costretto ad attaccare con le truppe francesi, anche lui in Belgio, Francia o Germania. La partita comincia con 10 punti vittoria, il war status risulta essere a 0 di tutte e due le fazioni, pertanto è che il combinato, che è la somma delle due, risulta essere pari a 0. E cominciamo. Comincia sempre il giocatore delle potenze centrali e la prima azione che viene eseguita, quindi CP Action 1, viene utilizzata per un evento, ovvero in questa partita che è stata giocata, i giocatori scelgono di utilizzare, di giocare con una variante che permette al giocatore delle potenze centrali di cominciare la sua partita sempre giocando come carta di apertura i cannoni d'agosto, calzo of August, questa qui come evento. Questa è una carta con un asterisco, pertanto la giocheremo e la rimuoveremo dal mazzo, ed è una carta che incrementa di 2 lo status di guerra, pertanto, questo significa, ricordo, questo 2 tra parentesi, pertanto il CP War Status lo andiamo a spostare verso destra, di 2 posizioni, andrà a 2, e di pari passo sotto si è mosso il track del War Status combinato che si è spostato a Cristo di 2, e vale 2, che è la somma del commitment delle potenze centrali, che è 2, e di quell'alleato, che risulta essere 0 in questo momento. Questa carta, leggiamo, può essere utilizzata come evento nel primo round di azione, proprio del turno, il primo turno di gioco, l'agosto 1914. Andiamo a leggere quello che c'è scritto. Innanzitutto, il forte di Liegi risulta essere distrutto. Quindi, sulla plancia di gioco, abbiamo questo forte, ops, stavo spostando questa metà, questo forte di Liegi risulta essere distrutto. Quindi, tra i vari token, andiamo a selezionare il token del forte messo sotto assedio, che lo posizioniamo su Liegi, e poi lo posizioniamo, lo invertiamo per indicare che è distrutto. Quindi, cancelliamo anche il suo valore di forza, e piazziamo la prima e seconda armata tedesca a Liegi. Pertanto, quello che accade è che il giocatore delle potenze centrali prende il controllo della città di Liegi. La prima armata, passa qui, la seconda armata da Koblenz, passa anch'essa qui. Su, oltre a ciò, cosa ci dice questa carta? Il giocatore, sempre delle potenze centrali, attiva le armate 1, 2 e 3 per il combattimento. Quindi, questa carta viene rimossa. Attivare le carte per il combattimento, le armate per il combattimento, significa che la terza armata e la prima e la seconda armata hanno l'opportunità di attaccare. Cosa sceglie il giocatore in questo esempio? Il giocatore sceglie di eseguire un attacco unico a forza 15 in quanto abbiamo tre armate ognuna delle quali ha un fattore di combattimento 5 che è il primo numero direttamente su Sedana contro la quinta armata francese che ha un fattore di combattimento di 3 che è il primo valore e un loss factor la capacità di assorbire diciamo il hit del nemico che è il secondo numero che anch'esso risulta essere un 3. Il giocatore delle potenze centrali decide di non eseguire un fiancheggiamento anche se ne avesse avuto l'opportunità e va a tirare sulla colonna del combattimento del modulo vassa abbiamo già visto che qui c'è la fire table utilizziamo l'army fire perché comunque si abbiamo almeno un'armata del combattimento utilizzeremo questa tavola bella sia per l'attaccante tedesco che per il difensore francese il giocatore tedesco sta attaccando a forza 15 e ottiene un 2 un 2 significa che ha inflitto 5 loss 5 loss questo vuol dire che la unità che si trova qui a Sedan riesce ad assorbire 3 colpi secondo numero 3 abbiamo detto quindi viene girata sul suo lato ridotto diventando quindi 1, 2, 3, 3 però i successivi due punti che deve andare a soddisfare di perdita non riesce a soddisfarli perché comunque sia per flippare ulteriormente questa armata ridotta e quindi in sostanza portarla nel box degli eliminati e rimpiazzarla con un corpo avremmo dovuto fare un hit in più un totale di 6 hit quindi questi due punti che sono avanzati in realtà vengono persi il giocatore alleato risponde sulla colonna da 3 perché il combattimento è in contemporaneo originariamente l'unità francese aveva forza 3 e va a tirare un 3 un 3 corrisponde a 2 di loss factor però anche qui questi due punti vengono persi perché così come le unità francesi avevano 3 come loss factor anche le unità tedesche hanno 3 quindi il giocatore tedesco quantomeno non subisce alcuna perdita e non vengono flippate queste unità quindi lo scontro è stato vinto dal giocatore delle potenze centrali 5 a 2 pertanto dato che c'è una vittoria con una delta con una differenza pari a 2 o più il giocatore francese deve ritirarsi da Sedan di due spazi il giocatore in questo caso decide di ritirare la sua armata uno spazio su Chateau Thierry e poi uno spazio su Cambrai quindi si è ritirato effettivamente di due spazi notiamo che Sedan è una foresta nel terrain effects abbiamo qui che in caso di foresta il giocatore ha l'opzione di cancellare la ritirata ovvero il giocatore francese il giocatore alleato poteva scegliere di rimanere a Sedan al costo di uno step loss quindi avrebbe dovuto ridurre ulteriormente questa armata quindi portarla nel box degli eliminati e porre un corpo però dal momento che è andato fin troppo bene questo attacco decide comunque di mantenere la sua armata la sua quinta armata e spostarla e ritirarla a questo punto il giocatore delle potenze centrali può decidere di avanzare in quanto ha almeno una armata che ha partecipato allo scontro ancora a forza piena in realtà ce le ha tutte e tre e quindi pertanto può avanzare ulteriormente e andare ad occupare Sedan decide di avanzare con la seconda e la terza armata quindi prima di avanzare andiamo a porre un segnalino di controllo su Sedan che diventa a questo punto di controllo delle potenze centrali quindi la seconda e la terza armata avanzano Sedan quindi chiudo la tabella e vado a eliminare i marker di movimento questa è stata l'azione di apertura del giocatore delle potenze centrali a questo punto tocca al giocatore alleato che deve scegliere cosa fare decide di giocare questa carta Russian Reinforcement abbiamo detto che per il vincolo dell'agosto del 1914 non può essere utilizzata per l'evento quindi non può richiamare l'undicesima armata e un corpo decide di sfruttarla per i tre punti operazione pertanto andiamo a porre questo indicatore anche anch'esso per quanto riguarda l'alleato su ops ops card questa carta viene quindi scartata e avremo diritto a giocare tre punti operazione i tre punti operazione che decide di utilizzare il giocatore alleato sono sia per rinforzare per attivare il fronte occidentale in particolar modo muovere questa unità a Barleyuk che per spostare l'attenzione sul fronte orientale in particolare anche qui decide di eseguire dei movimenti su Dubno dove è presente la terza armata russa e a Kamentez Podolski per un attacco ovvero qui quindi qui si avrà un movimento qui si avrà un attacco vengono risolti prima tutti i movimenti e poi tutti gli attacchi questa unità la nuova armata viene spostata a Chateau de Rie quindi si ha un movimento di uno ricordiamo che il terzo numero rappresenta le caselle che può muovere massimo questa unità si muove solamente di una casella a bloccare il percorso la discesa verso Parigi alle armate del giocatore delle potenze centrali mentre per quanto riguarda l'armata che si trova qui a Dubno anch'essa attivata per il movimento decide di eseguire l'attacco pardon qui in realtà decide di eseguire un attacco quindi di attaccare pesantemente sul fronte orientale decide di attaccare infatti questa armata a Tarnopol perché abbiamo comunque sia sei fattori di combattimento contro tre fattori di combattimento sei perché abbiamo al solito tre più tre in questo caso il giocatore russo decide di effettuare un fiancheggiamento dichiara che l'attacco principale partirà dall'ottava armata russa la terza armata servirà per fiancheggiare dal momento che la terza armata non ha altre unità nemiche adiacenti ovvero su caselle adiacenti tranne quella che sta colpendo porterà al tiro per il fiancheggiamento un bonus di più uno di norma un fiancheggiamento ha successo al 4 o più in questo caso avremo successo al 3 o più il giocatore russo tira un 4 che quindi viene modificato al 5 e quindi l'attacco sul fiancheggiamento risulta avere successo quando si ha un successo sul fiancheggiamento prima colpisce l'attaccante si applicano le ferite poi risponde il difensore con la forza ridotta a questo punto a valle dell'attacco qualora l'attaccante avesse fallito sul tiro del fiancheggiamento in realtà in quel caso avrebbe attaccato prima il difensore con la stessa logica ora quello che accade quindi è che l'attaccante va a colpire a forza 6 quindi utilizza questa colonna da 6 8 e tira un 3 tirando un 3 otteniamo 4 loss factor quindi questo vuol dire che l'armata a Tarnpol viene ridotta una volta per assorbire due ferite e viene eliminata quindi va a finire nel box delle unità eliminate per assorbire la quarta perdita e quindi andiamo a prendere un corpo di armata che viene posizionato qui a Tarnpol a questo punto il corpo qui presente va a rispondere però essendo solo un corpo dovrà tirare sulla tabella dei corpi e al massimo potremmo fare solamente un loss factor quindi in questo caso è inutile proprio tirare il dato questo corpo è costretto a ritirarsi di due posizioni la ritirata praticamente fa sì che questo corpo si ritiri prima qui e poi vado a rinforzare il fronte a Cernovitz la terza armata sovietica a questo punto terza armata russa pardon avanza a Tarnpol e mentre la ottava armata rimane sulla sua posizione questa avanzata fa sì che venga messa un segnalino di controllo andiamo a flippare eccolo qui a Tarnpol che è stata catturata dalle truppe dalle truppe alleate tocca nuovamente al giocatore delle potenze centrali il giocatore delle potenze centrali gioca una carta l'armata del sud per i punti operazione e non per l'evento quindi sfrutterà tre punti operazione quindi la carta dato che non è triggerato l'evento nonostante abbia un asterisco viene semplicemente scartata andiamo ad indicare che la seconda azione l'abbiamo spesa per i punti operazione e con i tre punti operazione quello che viene fatto abbiamo un movimento anzi un paio di movimenti qui sul fronte orientale per riequilibrare un attimino la situazione delle nostre forze quindi verrà mosso questo corpo tedesco e vengono mosse le unità a a Munkas quindi la seconda armata qui presente in montagna mentre ci sarà un attacco che parte sul fronte occidentale da Sedan andiamo prima a eseguire sempre i movimenti il corpo ridotto tedesco che si trova ad Oppeln va a muoversi all'Otz e in particolare per muoversi all'Otz potremmo fare per esempio questo movimento uno, due, tre, quattro dato che lui da si muove i quattro oppure la cosa più logica da fare in questo caso è semplicemente fare uno e uno, due questo perché così andiamo a prendere il controllo di questo spazio e questo spazio l'Otz è uno spazio in rosso spazio in rosso significa che è uno spazio che dà un punto vittoria pertanto nel nostro box andiamo a incrementare di uno i punti vittoria ricordo che i punti vittoria sono positivi perché sono visti dal punto di vista delle potenze centrali quindi quando le potenze centrali fanno punti vittoria questo indicatore va a crescere e quando gli alleati fanno punti vittoria questo indicatore va a diminuire la seconda armata invece a Mucas va a rinforzare qui il fronte a Cernovitz quindi viene a muoversi in questo spazio rimane da fare il combattimento che c'è qui a Sedan a Sedan abbiamo la seconda e terza armata tedesca che vanno ad attaccare l'armata ridotta la quinta armata ridotta francese presente in questo caso facciamo un attacco diretto l'attacco sarà da dieci contro due quindi le chance di sopravvivenza del giocatore alleato sono molto poche il combattimento è in contemporanea i giocatori hanno la possibilità di giocare carte combattimento il giocatore delle potenze centrali non gioca una carta combattimento il giocatore alleato invece decide di giocare una carta combattimento le carte combattimento ricordo sono queste con il CC questa carta che è la ritirata ci dice che la unità che si sta difendendo le unità che si stanno difendendo possono negare un lost step richiesto dei corpi e invece ritirarsi di uno spazio le unità attaccanti a forza piena possono avanzare se non c'è nessuna perdita di lost step quindi di corpi può essere praticamente negata una no step loss di armata questa è una carta combattimento che all'asterisco pertanto questa poi andremo a rimuoverla cosa significa questo il giocatore delle potenze centrali va a tirare i suoi dadi sulla colonna da 10 quindi 9 e 11 tira un 4 un 4 significa 5 loss di norma queste 5 loss cosa farebbero flipperebbero questa unità che è già ridotta un fattore 3 e quindi verrebbe sostituita con un corpo il corpo ha un loss factor di 1 quel corpo avrebbe flippato nuovamente per assorbire la quarta perdita e poi eliminato per assorbire la quinta perdita quindi di norma se non fosse stata giocata la carta della ritirata avremmo tolto sia l'armata che il corpo subentrato in realtà però questa carta della ritirata ci permette di salvare uno step loss del corpo quindi quello che avviene è che comunque sia questa carta questa quinta armata subisce i suoi danni quindi viene eliminata andiamo a posizionare un corpo che andiamo a porre qui questo corpo viene ridotto nuovamente la quarta ferita la quinta ferita non l'applichiamo in quanto questo corpo grazie al withdraw potrà andare a ritirarsi quindi questa carta questa unità fortunatamente poi si salverà questa unità si andrà a ritirare verso Amiens il giocatore francese comunque stava attaccando a forza due quindi su questa colonna va a tirare un tre un tre sono due loss factor ma ancora una volta queste non sono non sono sufficienti e quello che accade è che le unità riesce ad avanzare in realtà in realtà supponiamo che il tiro sia un un 6 quindi un risultato più più elevato sulla colonna da due un 6 è pari a 3 loss factor quindi una delle due unità risulta essere a questo punto ridotta supponiamo la seconda che andiamo a girare in questo caso adesso il giocatore delle potenze centrali ha comunque la facoltà di avanzare solamente però con l'unità la terza che risulta essere a forza piena il giocatore decide di avanzare quindi va ad occupare anche cambrè e quindi la terza armata risulta posizionata qui occupando cambrè facciamo un punto di vittoria e questi sono le attivazioni della seconda carta del giocatore delle potenze centrali il giocatore alleato deve correre ripari e gioca la carta blockade non per l'evento ma per le 4 punti operazioni che sono presenti qui per fare quindi diverse attivazioni la carta viene scartata al solito non avendo attivato l'evento quindi l'asterisco non viene preso in considerazione e la seconda carta viene utilizzata per le ops a questo punto quello che viene fatto sul discorso delle attivazioni vengono attivate diverse regioni vengono attivate sia Verden qui che Chateau Thierry sul fronte occidentale mentre sul fronte orientale abbiamo preso Tarnopol quindi continuiamo ad attaccare da questa zona e da qui quindi continuiamo a martellare il fronte astro-ungarico sul fronte occidentale abbiamo quindi l'attacco della non armata Chateau Thierry non armata ridotta che ha due fattori di combattimento e la terza e quarta armata che sono entrambe piene qui a Verdun che hanno 3 più 3 quindi 6 tutte vanno ad attaccare questa armata che a questo punto si trova qui presa tra due fogli un totale di abbiamo 3 più 3 più 2 quindi forza 8 forza 8 contro forza 3 vediamo un'ultima volta la tabellina degli fattori di combattimento forza 8 quindi ricadiamo in questa colonna 6 8 contro forza 3 e ricadiamo in questa colonia il giocatore francese riesce a ottenere un 5 quindi sono 5 loss factor 5 loss factor significa che 3 sono accusate dall'armata che viene eliminata e il corpo che deve subentrare andiamo da qui andiamo a Sedan deve subire anch'esso due ferite quindi la prima loss factor viene ridotto e poi questo viene eliminato quindi le truppe risultano essere completamente uccise se vogliamo la potenza centrale invece ha 3 fattori di combattimento sulla colonna da 3 tira un 3 quindi esegue 2 loss factor e anche in questo caso fortunatamente per il giocatore francese non c'è perdita di alcuna unità dato che il valore minimo che deve andare ad accusare risulta essere 3 questo permette un'avanzata facile per cui la terza armata avanza su Sedan questo segnale di controllo lo andiamo a togliere quindi la terza armata la andiamo a spostare su Sedan tra l'altro dovevamo eseguire obbligatoriamente un attacco con il giocatore francese quindi l'abbiamo eseguito possiamo spostare questo indicatore sul box dell'attacco eseguito la cosa particolare di questo attacco oltre ad aver eliminato l'unità tedesca con il corpo aver soddisfatto il nostro attacco obbligatorio e che adesso la terza armata tedesca che si trova a Cambrai è praticamente circondata non riesce a tracciare un percorso fatto di territori controllati dalle potenze centrali fino a un centro di rifornimento Essen per esempio quindi questo significa che questa unità risulta essere out of supply e quindi la andiamo a marcare con l'indicatore dell'out of supply quando l'unità risulta essere out of supply significa che non la possiamo attivare e subirà se rimarrà così alla fine del turno l'attrition quindi andremo a perderla definitivamente quindi il giocatore delle potenze centrali dovrà fare qualcosa per ristabilire la linea di comunicazione quindi risulta essere impantanata qui in Francia oltre i confini per quanto riguarda invece l'attacco sul fronte orientale qui abbiamo nuovamente questo attacco simile all'attacco di prima cioè abbiamo due armate russe a forza piena hanno forza 3 più 3,6 questa volta stanno attaccando un'armata ridotta e due corpi dato che c'è almeno un'armata qui si utilizzerà per quanto riguarda il giocatore austro-ungarico comunque la tabella delle armate e quindi il giocatore austro-ungarico andrebbe a rispondere con forza 3 il giocatore russo decide che non vuole seguire un fiancheggiamento quindi l'attacco è in contemporanea e gioca una carta combattimento questa qui questa carta ci dice che le unità russe guadagnano un più uno al tiro del dado quando attaccano o quando difendono la carta ha un asterisco quindi comunque la giochiamo e la dobbiamo anche rimuovere questo significa che andando ad eseguire il tiro di dado avvalle anche del risultato diciamo modificato le potenze centrali tirano un 3 e vanno ad infliggere due ferite al giocatore russo che va a flippare a ridurre in questo caso la terza armata dato che ha proprio un 2 di lost factor il giocatore alleato invece tira un 2 che diventa un 3 grazie alla carta giocata che equivale a un lost number di 4 il giocatore della potenza centrale sceglie quindi cosa vuol come vuole attribuire le sue le sue perdite ha diverse opzioni perché potrebbe eliminare la seconda armata austro-ungarica a fare entrare un corpo e poi distribuire ulteriori due ferite eliminando un corpo offerendo due corpi oppure quello che decide di fare è andare ad attribuire due ferite ciascuna ai corpi la prima serve per flipparlo la seconda serve per eliminarlo e questa cosa viene fatta anche sul secondo corpo in maniera tale da lasciare questa unità questa armata presente sulla plancia di gioco questa armata però è costretta a ritirarsi e quindi tramite Stanislav va su Monkas in difesa sulle montagne il giocatore russo decide di avanzare con l'ottava armata pertanto andiamo a clonare questo segnalino di controllo che lo mettiamo su Cernovic e va a guadagnare un punto vittoria andando a guadagnare il punto vittoria questo indicatore scende quindi si sposta a sinistra e diventa 11 e andiamo a eliminare con il pulsante apposito i mark di movimento tranne quello dell'auto supply che deve comunque sia rimanere qui a Cambre tocca nuovamente alle potenze centrali terza azione le potenze centrali decidono di giocare questa carta tanto ripeto non è possibile utilizzare i rinforzi e utilizzano 4 punti operazione quindi scartiamo questa carta e decidiamo di attivare le nostre unità quello che viene utilizzato andiamo ad attivare Liegi usiamo Metz dobbiamo liberare la strada qui dobbiamo fare pulizia su Sedanna obbligatoriamente sul fronte orientale andiamo ad attivare il fronte serbo quindi usiamo Novisad e Timisvar per attaccare Belgrado dove è scoppiata la guerra per quanto riguarda il fronte orientale il fronte pardon occidentale la prima armata di Liegi assieme alla quarta e quinta armata di Metz sferrano l'attacco su Sedan fanno un attacco senza fiancheggiamento quindi un attacco 15 contro 3 in contemporanea il giocatore delle potenze centrali tira un 4 che equivalgono a 7 loss 7 loss è il valore massimo che si può ottenere 7 loss equivalgono all'eliminazione completa dell'armata perché 3 più 3 abbiamo visto quindi questa possiamo eliminarla direttamente subentra un corpo a Sedanna che viene ridotto il giocatore invece alleato tira un 3 che equivale nuovamente a 2 loss factor ma siccome il fattore di 2 step loss per 2 loss diciamo siccome il loss factor delle unità tedesche risulta essere 3 non subiscono danni le armate tedesche il corpo francese attraverso Verdun si va a ritirare su Chateau Thierry e le unità tedesche a questo punto risultano diciamo l'unità Cambrera risulta in rifornimento perché l'unità tedesca la quarta armata avanza su Sedan fino a prenderne il controllo andando ad avanzare su Sedan viene ripristinata a questo punto la linea di comunicazione quindi questa unità fortunatamente per il giocatore delle potenze centrali non risulta più fuori sussidio per quanto riguarda invece il fronte che risulta qui a nord di Belgrado il fronte serbo il giocatore delle potenze centrali attacca a forza 4 sulla tabella delle armate il forte di Belgrado a Belgrado abbiamo la prima armata serba a forza 2 e il forte fornisce contribuisce con un fattore più 1 in difesa quindi tireremo in teoria sulla tabella da 3 delle armate per tale motivo il giocatore delle potenze centrali sceglie di tentare un fiancheggiamento in questo caso quindi la forza attaccante è per esempio questa armata questo corpo va a fiancheggiare non ci sono nemici attorno pertanto si beneficia di un bonus di più 1 nell'attacco di fiancheggiamento quindi è sufficiente un 3 o più per avere successo il fiancheggiamento ha successo pertanto va a colpire prima il giocatore austro-ungarico che tira un 3 un 3 significa lo snumber di 3 lo snumber di 3 vuol dire che andiamo a girare l'armata serba una volta diventa ridotta però non possiamo più eliminarla perché non abbiamo fatto 4 loss purtroppo ne abbiamo fatto solo 3 a questo punto tocca al serbo rispondere che riesce a tirare un 6 un 6 corrisponde ad una loss factor di di 3 unità 3 unità perché stiamo ricordo tirando sulla tabella da 2 dato che c'è un forte che somma la propria forza se Belgrado non fosse stata una città con un forte avremmo ottenuto con il risultato di 6 2 loss factor però abbiamo ottenuto come dicevo 3 loss factor e quindi il giocatore decide austro-ungarico di è obbligato a girare entrambe le unità perché se possibile deve cercare di ottenere di arrivare a cappare queste perdite quindi di attribuirle completamente ci sono stati 3 loss factor per parte per cui è un pareggio se vogliamo non c'è possibilità di ritirata da parte del giocatore che si trova stazionato a Belgrado perché effettivamente non ha non ha perso tocca al giocatore alleato giocatore alleato che decide di utilizzare questa carta i rush reinforcement per le ops questa volta sono solo due ops quindi le attivazioni saranno di meno quindi continuiamo ad utilizzare ops per questo turno le unità che andiamo ad attivare sono sul fronte occidentale per riorganizzare le nostre truppe francesi in particolare scegliamo di andare ad attivare le truppe annansi e damien quindi qui abbiamo questo corpo ad amien e annansi abbiamo queste armate il corpo che si trova qui ad amien viene spostato si può muovere di quattro quindi uno due e tre da Manforte a Bruxelles al British Expeditionary Force inglese è inutile tenerlo qui a impurire in pratica alle porte di Parigi per quanto riguarda invece il modo da Nelsia andiamo a rinforzare Verdun in particolare spostiamo la prima armata su Verdun che è comunque uno snodo fondamentale perché la massima fortezza presente qui sul fronte occidentale quella maggiormente difesa dato con forte a tre per di più comincia la partita anche con una trincea di livello uno che fornisce dei bonus non irrilevanti ricordo che una trincea fa sì che l'attaccante vada a tirare il dato su una colonna shiftato a sinistra sinistra significa che se noi stiamo attaccando con due armate tedesche a forza piena quindi a forza dieci di norma utilizzeremo questa colonna 9-11 ma se attacchiamo Verdun che ha una trincea di livello uno andiamo a spostarci di una sinistra quindi andiamo a utilizzare la colonna 6-8 in aggiunta da anche un beneficio difensivo a colui che si trova nella trincea per cui il giocatore in difesa quando va a lanciare il suo dato guarda una colonna che si trova a destra quindi è particolarmente difficile andare a prendere uno spazio con una trincea maggior ragione se la trincea è di secondo livello perché il giocatore attaccante ha un malus doppio guarda due colonne a sinistra ok tocca nuovamente al giocatore delle potenze centrali continuo a giocare questa carta per le ops quindi i rinforzi tedeschi per le ops abbiamo tre ops a nostra disposizione continuiamo a primere insomma a martellare i francesi sul loro fronte pertanto attiviamo le unità che si trovano a Cambrai e le unità che si trovano a Sedan per l'attacco mentre sul fronte orientale scegliamo di muovere queste truppe che si trovano qui a Instenberg e muoverle qui per il vincolo che abbiamo detto all'inizio del video circa l'attacco delle unità tedesche in spazi dove sono presenti delle unità russe in forti queste unità non possono attaccare questi spazi quindi da qui è inutile se vogliamo ottenerle quindi dobbiamo ridistribuirle in qualche modo queste unità optano per una ritirata strategica a 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 mentre sul fronte occidentale abbiamo qui due unità anzi due spazi che sono stati attivati Cambrai e Sedan l'armata di Cambrai la terza e la quarta armata di Sedan decidono di attaccare il decidono di attaccare la unità le unità francesi che si trovano a Chateau Chierry quindi abbiamo un totale di 5 più 5 10 contro forza 3 in difesa del giocatore francese il tiro di dato è fortunato per il giocatore delle potenze centrali che fa un 6 quindi ottiene 7 loss factor che sono sufficienti ad eliminare praticamente ogni cosa presente in questo spazio ovvero 7 loss factor significa l'eliminazione del per una volta significano l'eliminazione del corpo che è una loss factor poi l'eliminazione della non armata che sono 3 loss factor quindi ne abbiamo eliminati 4 in totale questo punto per la quinta loss factor riduciamo questo corpo per la sesta loss factor andiamo a eliminare anche il corpo che è subentrato quindi in teoria abbiamo tolto due corpi e l'armata il giocatore alleato invece fa un 5 questa volta e quindi riesce a ridurre quantomeno un'armata tedesca riduciamo l'armata che si trova a Cambrai non c'è un movimento un'avanzata della quarta armata verso Chateau Thierry per non c'è quindi questa avanzata del fronte perché questa volta imparando dai propri errori il giocatore delle potenze centrali non vuol compromettere la sua linea di rifornimenti perché il movimento a quel punto delle unità alleate verso sedante taglierebbe entrambe le armate sia a Chambre che a Chateau Thierry quindi decide di non avanzare ulteriormente tocca nuovamente al giocatore alleato giocatore alleato che utilizza questa carta per i tre punti per azione andiamo a scartare la sua quarta azione risultano essere punti operazione questi tre punti operazione sono utilizzati per attivare sempre sul fronte francese Verdun e Bruxelles abbiamo speso tre punti operazione attivando questi due spazi perché su Bruxelles abbiamo sia truppe inglesi che truppe francesi e quindi la regola vuole che quando si attiva uno spazio si spende un punto operazione per ogni nazionalità presente nello spazio fino adesso negli esempi trattati in ogni spazio c'erano solo truppe austro-ungariche russe francesi piuttosto che tedesche adesso stiamo attivando uno spazio Bruxelles dove abbiamo due nazionalità inglesi e francesi quindi l'attivazione di Bruxelles ci costa due punti operazione e il terzo punto invece è l'attivazione di Verdun con queste unità che stiamo attivando eseguiamo il nostro attacco tentiamo un attacco di fiancheggiamento verso Sedan in questo caso l'attacco di fiancheggiamento non beneficia di alcun bonus perché ambo queste forze oltre che confinare con le truppe tedesche a Sedan confinano anche con altri nemici perché le truppe di Verdun vanno a confinare con Metz le truppe di Bruxelles confinano con Cambrai e con Liegi quindi è un tiro di dado puro al 50% 4 più e c'è il fiancheggiamento 1,2,3 e non c'è il fiancheggiamento quello che accade è che il fiancheggiamento ha successo pertanto il giocatore alleato va a tirare per primo tira su una forza pari a 3 più 3,6 più 6,12 quindi importante come attacco però purtroppo tira basso cioè va a tirare un 2 un 2 risulta semplicemente 4 loss 4 loss a malapena vanno a ridurre questa armata che si trova a Sedan a questo punto il giocatore tedesco risponde solamente con 3 tira un 2 che equivale a un loss number di 2 questo loss number di 2 viene soddisfatto semplicemente dal corpo francese che viene eliminato il punto in avanzo viene perso il giocatore tedesco è costretto a questo punto a ritirarsi di due spazi e attraverso Koblenz va a ritirarsi su sugli eggi non c'è a questo punto un'avanzata del giocatore francese del giocatore alleato che avrebbe potuto avanzare questo perché vuol forzare probabilmente il giocatore delle potenze centrali a fare un'avanzata ulteriore quindi spregare ulteriori punti per muovere verso Sedan il giocatore delle potenze centrali come quinta azione a questo punto decide di utilizzare Falkenheim qui non avevo messo le azioni precedenti però avevo utilizzato tutti i punti per azione come quinta operazione decide di utilizzare la carta Falkenheim per i replacement quindi questo indicatore lo andiamo a mettere su RP ricordo che le azioni di replacement di strategic redeploy possono essere utilizzate più volte durante il turno ma come ricorda proprio questo box delle azioni lo stesso tipo di azione non può essere giocata come azioni consecutive pertanto giocando adesso una carta per i replacement la carta successiva non può essere giocata nuovamente come replacement se noi vogliamo giocare due carte come replacement durante il turno dovremmo intervallare il gioco di queste due carte da una carta utilizzata per un'altra motivazione andate a giocare Falkenheim per i replacement dal momento che in guerra i turchi e i bulgari ancora non sono presenti andiamo a guardare solamente il valore degli RP che andremo a guadagnare per gli austro-ungarici e per i tedeschi quindi due per gli austro-ungarici e tre per i tedeschi quindi questa carta la andiamo a scartare andiamo a prendere i nostri segnalini per i replacement tre abbiamo detto per i tedeschi e due per quanto riguarda gli austro-ungarici e quindi vengono messi sul track generale il giocatore alleato a questo punto prende un po' di respiro rimasta una carta solamente ancora a disposizione che potrebbe essere giocata per i replacement o per i punti operazione decide di giocare la sua quinta azione come un ops cioè un giocatore ha sempre l'opportunità di rinunciare all'utilizzo di una carta e spendere un punto per azione in questo caso decide di utilizzare questo punto per azione per andare a muovere le unità ad anversa questa armata belga e muoverla su Bruxelles per rinforzare il fronte ultima azione del giocatore delle potenze centrali decide di utilizzare Von François per i punti operazione scartiamo questa carta e abbiamo due punti operazione ops due punti operazione andiamo ad attivare Liegi e Cambrai per il movimento questa armata da Cambrai viene spostata verso Sedan quindi c'è una ritirata da parte del giocatore tedesco per cercare di tenere meglio il fronte e la quarta armata anch'essa ridotta avanza verso Sedan quindi risistema momentaneamente le sue forze in maniera migliore ultima azione del giocatore alleato gioca la carta degli alleati britannici per 4 punti operazione quindi questa carta viene scartata e andiamo ad eseguire dei movimenti e degli attacchi sul fronte occidentale andiamo ad attaccare da Verden e utilizziamo un movimento da Grenoble perché abbiamo questo sulle Alpi questo corpo che è qui lasciato inutilmente mentre sul fronte orientale spostiamo nuovamente l'attenzione qui attacchiamo da Zernovich e decidiamo di eseguire un movimento qui da Tampol quindi in questo caso muoviamo la nostra terza armata russa questa terza armata russa avanza verso Lemberg pertanto possiamo andare a prendere controllo di questo spazio e andiamo a fare un punto vittoria quindi lo spostiamo a sinistra e torniamo verso i 10 la situazione di partenza mentre il corpo francese che si cronava a Grenoble si sposta di 4 questo valore 1 2 3 e andiamo a rinforzare la capitale Parigi passiamo a questo punto agli attacchi restiamo qui in Francia le armate presenti a Verdun che sono la prima e la quarta quindi 6 di forza in totale attaccano le armate tedesche che si trovano qui a Sedan dato che l'occasione è ghiotto perché siamo a pari forza quindi 6 contro 6 il giocatore alleato tira un 5 che fanno 5 loss number pertanto la terza armata tedesca viene eliminata viene posto un corpo al suo posto ma verrà eliminato anch'esso dato che deve soddisfare le altre due ferite le potenze centrali invece tirano un 4 che equivale solamente ad un 4 di loss factor quindi c'è la riduzione della prima armata solamente dal momento che ha vinto di una differenza pari a 1 5 contro 4 il giocatore alleato il giocatore tedesco deve ritirarsi di uno spazio e quindi questa va a ritirarsi verso Koblenz sul fronte orientale abbiamo l'attivazione di Cernovic che va ad attaccare le unità a Munkas in questo caso abbiamo l'unità la ottava armata a forza 3 contro la seconda armata a forza 1 andiamo ad eseguire il nostro lancio di dati la particolarità di questo attacco è che Munkas è una regione montuosa quando andiamo ad attaccare una regione montuosa il giocatore all'offensiva quindi il giocatore russo in questo caso spara su una colonna sceltata a sinistra quindi in realtà non è un 3 a 1 ma è come se fosse un 2 contro 1 e in questo caso tirando sulla colonna da 2 il giocatore russo ottiene un 3 che corrisponde a un loss factor di 2 quindi questa viene eliminata e viene posto al suo posto un corpo mentre il giocatore delle potenze centrali tira praticamente un 1 che corrisponde a 0 0 hit quindi 0 loss number questo corpo è costretto pertanto a ritirarsi immaginiamo che si ritiri in questa posizione il giocatore declina l'opportunità di avanzare si conclude così la fase delle azioni e si passa alla fase dell'attrition non accade niente fortunatamente per il giocatore delle potenze centrali perché l'unità cambré è stata poi riportata indietro se no sarebbe stata persa in maniera permanente si procede alla fase dei siege ma non c'è nessun forte che è stato messo sotto assedio durante questo turno si ha successivamente la fase del war status ma in questo caso non è cambiato nulla dato che lo status di guerra risulta essere pari a 2 per il giocatore delle potenze centrali e null'altro e poi si passa alla fase dei replacement in questo caso procedono prima gli alleati ma non hanno giocato carta per i punti di replacement poi tocca al giocatore delle potenze centrali il giocatore delle potenze centrali ha 3 punti di replacement per le truppe tedesche e 2 punti di replacement per quanto riguarda le truppe austro-ungariche cominciamo con le truppe austro-ungariche quindi spendiamo in toto i nostri 2 punti e con i nostri 2 punti decidiamo di andare a ricreare spendendo un punto di replacement a testa uno step di armata cioè andiamo a ricreare la seconda e la terza armata entrambe ridotte avremmo potuto ricreare una direttamente delle due armate a forza piena spendendo lo stesso numero di punti però dicevo in realtà il giocatore sceglie di andare a ricreare entrambe queste armate ridotte le può mettere in capitale ne ha due di capitale il giocatore austro-ungarico Vienna o Budapest ed entrambe le va a mandare a Budapest per rinforzare il fronte orientale per quanto riguarda invece le truppe tedesche abbiamo un totale di tre punti di replacement a nostra disposizione decidiamo di anche qui ricreare queste due armate entrambe ridotte le possiamo mettere in capitale a Berlino o sui centri di rifornimento che sono Breslau sul fronte orientale o Essen sul fronte occidentale le mandiamo entrambe ad Essen sul fronte occidentale mentre l'ultimo punto lo utilizziamo per ricostruire in maniera completa l'armata Koblenz ovvero andiamo a riportare dallo stato ridotto allo stato pieno questa armata e quindi risulta essere effettiva al cento per cento il turno si va a chiudere a questo punto con la fase di pesca il giocatore alleato che non ha più carte ne va a pescare sette il giocatore invece delle potenze centrali dal momento che non scarta questa carta perché è possibile scartare delle carte combattimento che sono rimaste in mano per perché magari non vuole utilizzarle nel turno successivo decide invece di mantenere questa carta pertanto andrà a pescare sei carte per ottenere una mano da sette e questo chiude il primo turno dell'esempio di gioco preso proprio dal playbook nel video successivo vedremo in maniera un pochino più accelerata il secondo turno di gioco quindi il settembre del 1914 114 di gioco Grazie a tutti.